Ehm... Emily, ti sei svegliata? Oh, devi usare il vasino. Ehm... 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 E' ora di vestirsi! Questo vestitino o quest'altro? Ottima scelta, Emily! Sì, un fiore, un caniglio! Sì, un fiore, un caniglio! Ho fame! Andiamo in cucina! Mentre io preparo la colazione, tu puoi disegnare! Non dimentichiamo di lavarci le mani prima di cucinare! Emily adora le pappe per bambini! Non dimentichiamo di cucinare! È ora di fare una deliziosa colazione, Emily! Emily era molto affamata! Ha mangiato tutto! Oh, sono tutta sporca! Non preoccuparti, Emily! Ci penso io! Tu gioca con le palline e io lavo i piatti! Emily adora giocare nella sabbiera! Sì! Oh, un fiore! Hai anche una formina a forma di nave e una a forma di treno! Costruirò una nave! Emily, fai attenzione! Emily, ti avevo avvertita! Devi stare attenta! Oh, i miei occhi! Che male! Ah, Emily! Devi cambiarti alla svelta! I tuoi vestiti sono tutti sporchi! Non preoccuparti! Possiamo lavarli! Le macchie come queste devono essere immerse nell'acqua! Voglio giocare! Voglio giocare! Detersivo per bucato! E le macchie sono sparite! I jeans sono puliti! Ora devono solo essere messi ad asciugare! E le macchie sono sparite! Oh, ho sete! Ecco qua, Emily! Sei riuscita a costruire la torre? Sì! Ma l'ho buttata giù! Ne costruiamo una insieme! Giallo, verde, blu e rosso! È rotta! Emily, è ora di fare un pisolino! Ecco il tuo peluche preferito! Ciao, Barbie! Emily ha bisogno di un massaggio! Capito! Togliti i vestiti, Emily! E sdraiati! No, non voglio! Emily, i massaggi fanno bene ai bambini! Ho fame! Ecco del latte! Oh, sembra che debba cambiare il pannolino! Hai ragione! Così va meglio! Emily è pronta! Olio da massaggio Ora le gambe! Faccio l'etico! Girati sulla schiena! Mi annoio! Manca poco, Emily! Guarda questi giocattoli interessanti! Foca! Paperella! Dinosauro! E un piccolo ippopotamo! Oh, sì! Fatto! Il massaggio è finito! Puoi vestirti! Ci vediamo domani! Ciao, Emily! Ciao! Emily, dobbiamo lavare le mani! Tu gioca un po' E io ti preparo la farina d'avena! Ah ok! Eh eh eh! Eh 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 oh! Ah ahahahah! Grazie a tutti. La farina d'avena scotta. Dobbiamo aspettare che si raffreddi. Emily si è addormentata. Emily si è svegliata. Cosa c'è che non va, Emily? Non vuoi giocare? Capito. Devi avere fame. Ecco qua, Emily. Qual è il problema? Hai la fronte calda. Dobbiamo consultare immediatamente un medico. La fronte calda. 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 Dottoressa, Emily ha la febbre alta! Fammi dare un'occhiata! Oh, trentotto! È alta! Lasciami controllare le orecchie! Le orecchie sono a posto! Apri la bocca, Emily! Di... La gola è libera! Il tuo primo dentino! Congratulazioni, Emily! Applicherò un unguento e il dolore scomparirà! L'unguento sa di fragola! A Emily piace! Guarda! L'umore di Emily è migliorato! Non soffre più! Emily, questo è il tuo primo spazzolino da denti! Ora, devi lavarti i denti due volte al giorno! Al mattino... E alla sera! Che carino! Grazie, dottoressa! Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Emily, non si fa così! Ah! Ma così? Ricorda! E dal basso! Risciacquo, Emily! Il mio primo dentino! Andiamo a giocare! Ehi! Ehi, 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 ehi! Ehi, ehi! Ehi, 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 ehi! Ehi, ehi, ehi! Ehi, 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 ehi! Ehi, ehi!